Amici di LucaniaTV.it, scusate se in questi giorni convai un po' spesso su LucaniaTV.it, ma mi rifaccio dopo che ci eravamo sentiti l'ultima volta nel mese di dicembre. Questa sera a LucaniaTV.it ha il piacere di ritornare all'atronico, nel senso che 15 giorni fa, se ricordate, avevamo avuto ospite l'assessore della Giunta De Maria, Vincenzo Castellano, che tra l'altro ha avuto un buon riscontro di ascolto, più di mille visualizzazioni, grazie di cuore perché ci seguite sempre con affetto. Questa sera abbiamo proprio il sindaco di Latronico, eccolo qui, inquadrato da Gianfranco Di Bella, Fausto De Maria. Che ringrazio per aver accettato l'invito. De Maria, siamo agli sgoccioli dell'amministrazione comunale latronichese. Sei contento? Stai per tirare un zospiro di sollievo? Non lo so se tu sarai candidato, ma ce lo dirai te, ma diciamo un po', come è il tuo stato d'anima a pochi mesi dalla fine di questo tuo quinguegno? Beh, io prima cosa ringrazio L'Occario TV, ringrazio Pino, grandissimo conduttore presentato. Grazie a te. No, siamo quasi pronti per questa campagna di attrazione, noi la viviamo come un esame, la nostra amministrazione si presenta alla cittadinanza, porta come un esame se è stata preparata, nel senso che abbia fatto cose, altrimenti la cittadinanza la boccerà perché ritiene che ci sia un'alternativa migliore. Noi la viviamo così, senza… in questi anni, cinque anni, io proprio qualche giorno fa rivedevo, perché poi sono uno dei social che lavora molto sui social network, rivedevo le fotografie dal 2012 ad oggi e abbiamo fatto tanto. Diciamo che tutto si può dire dell'amministrazione del Marino, ma non è un'amministrazione che ha dormito, è un'amministrazione molto dinamica, è un'amministrazione che ha avuto riconoscimenti, non soltanto a livello regionale, ma a livello nazionale. L'amministrazione del Marino fa parte dei comuni virtuosi, dove lì non è che si entra con la semplice domanda. Sicuramente, sì. C'è proprio, vengono delle buone prassi, ha un buon progetto, ha fatto investire un sacco di soldi, ha risolto tanti problemi dell'amministrazione del Marino. Noi proprio in questo periodo lanceremo le 100 cose fatte, che sono selezionate, non sono soltanto 100. Li selezioneremo 100 cose fatte, di cui noi siamo stati incetti. La cosa che è mancata è questa campagna elettorale perenne, una campagna elettorale che non è solo di oggi, di sempre. Avrei preferito in questi cinque anni passati un confronto più democratico, più civile, fatto nei consigli comunali, dove a volte c'era l'assenza, dove tutto il silenzio. Oppure fatto nei dibattiti all'aperto, dove noi siamo stati i primi, noi siamo stati pionieri a fare il dibattito in piazza. Siamo stati i primi a mettere i consigli comunali in streaming. Noi nel 2012 abbiamo fatto l'apripista per tante cose. Prima che la legge mettesse il fatto della trasparenza, noi siamo stati i primi a mettere le delibere. Tutto ciò che si poteva, proprio per un coinvolgimento. In questi cinque anni abbiamo visto da una parte un coinvolgimento forte all'amministrazione, un buono aiutato anche i social. Da un altro fatto anche, diciamo, il dialogo è stato pure più scondroso. Però il problema è un altro. Il problema è che purtroppo si parla poco delle cose e molto delle persone. Bisognerebbe più parlare delle cose. Io vorrei avere una differenza su vedute come vediamo il paese, non su vedute polemiche stupide, infantili e sterili. Senti Fausto, cento cose delle tante che avete fatto in questi cinque anni. Mi dici la cosa a cui sei più attaccato? E' quella che non ti ha convinto molto? Forse è una domanda un po' strana, però vediamo. Non è strana, è una domanda abbastanza importante che mi fa riflettere. Io non porto mai la barba, è difficile. Sto portando la barba perché ho fatto un fioretto. Ah, è un fioretto che la taglierò proprio nel giorno in cui la cosa più importante che ho, su cui ho lavorato l'amministrazione comunale. Non perché non abbia lavorato per le sue altre cose. Però è la cosa più importante perché io penso che l'amministrazione comunale se ne lascia un'impronta la lascia, se lascia qualcosa che può creare uno sviluppo al paese. Altrimenti può fare poco. Beh, io da inizio gennaio sto aspettando due progetti di una società russa che ha investito all'atronico, su cui ho buttato in sangue tre anni. Finalmente con il primo siamo arrivati al permesso a costruire. Io pensavo di averlo già a inizio gennaio perché la barba adesso sto facendo un po' lunga. Però proprio oggi è stato deciso il 15 febbraio che finalmente riusciremo a dare il permesso a costruire. Doverà proprio la società a prenderselo. Quindi oltre a tagliare la barba... Dal 16 sarai sbarbato. Sarò sbarbato, ma la cosa più importante è che finalmente riusciamo a fare qualcosa che l'atronico merita. Sono due progetti, ma è un progetto complessivo di 28 milioni di euro di investimento. Un'università privata che farà più di 150 camere. Ci sarà un centro benessere, un centro sensoriale. Diciamo che l'atronico su questo sarà... Ma non solo l'atronico, tutto il territorio. Perché non è soltanto come fare un'azienda che metti 100 posti di lavoro. Oltre i posti di lavoro che lavoreranno nelle strutture ricettive ci sarà un indotto che vandrà per 10. Perché li puntano ad avere tanti turisti all'anno. Che poi sono anche turisti che possono dormire in una camera da letto a 5 stelle. Quindi anche un certo tipo di turismo di qualità. Quindi è un beneficio per l'atronico e per l'interale. Questa è la cosa che tengo di più e che ci ho lavorato molto. Alla fine di questo ho deciso anche... L'ho già annunciato a lui, alla segreteria. Mandano una letto sia al Presidente del Consiglio che a Renzi e altri. Perché il guaio più grosso in Italia è la burocrazia. E l'ho toccato adesso con le mani. Ci sono stati io dietro e ci abbiamo messo quasi tre anni. Ma non si può per un progetto avere quattro pareri dell'ASP. Due volte pareri della Commissione Paesaggistica. Si allungano i tempi. Il Vengolo idrogeologico. Due volte pareri della provincia. Immaginate come è stato difficile per me spiegarlo agli stranieri. Io devo ringraziare i dipendenti pubblici che mi hanno capito, non ho compreso le importanze. Non mi hanno fatto perdere tempo perché c'ero io. Ma immagino se non c'era un sindaco che giustamente chiunque fosse stato al mio posto avrebbe fatto lo stesso. Ma a questo punto che avrebbero aspettato cinque, sei anni. Cioè quello ci fa paura. Come fanno a raccontare l'ora a qualche altro investitore. Quindi più che cercare gli investitori stranieri bisogna risolvere il problema della burocrazia. Poi su quello che meno è andato, non è che ne abbiamo fatti errori. Chiunque fa errori. È chiaro che la seconda tornata sarà più facile perché fare una cosa per la seconda volta è sempre più facile. Avrò le idee più chiare. Gli errori li abbiamo anche fatti. Ma la mia apertura proprio d'amministrazione pacifica era quella di migliorare la mia amministrazione. Invece vedo che dall'altra parte c'è una coalizione che si sta mettendo, si sta armando, diciamo. Più che altro cangellare la mia amministrazione. Quindi cangellare questi cinque anni. Invece io apro tutte le forze politiche, sociali, senza distinguere dall'idea politica ma sull'idea civica che abbiamo avuto, di migliorare la nostra amministrazione. Cioè venire a dare il proprio contributo perché chiunque può dare una mano veramente al bene comune. Senti Fausto, la mattina quando ti svegli apri il balcone e ti affacci sulla tua bella cittadina. Che soddisfazioni hai dopo cinque anni? Cioè come è andata questa amministrazione comunale al di là delle cose che ha fatto? Tipo con i giovani, col problema delle terme, con altri problemi che sicuramente il tuo comune avrà. Come ti senti tu? Beh io da una parte mi sento soddisfatto perché ho visto molta vitalità, associazioni, organizzazioni, c'è stata veramente una grossa vitalità. Da una parte l'amministrazione è stata disponibile, non ho mai fatto unire meno la sua disponibilità. Quindi vedo giovani e questo mi fa capire che il paese cresce. Cresce perché io poi andrò a vedere i dati, quando arriverò in primavera, ma nelle elezioni, farò il dato di quante attività hanno chiuso e quante attività hanno aperto. E credo che sia un saldo positivo, perché qualche attività è chiuso perché sono andato in pensione, non perché hanno chiuso. E quindi significa che c'è una vitalità. E' chiaro che le cose buone di un'amministrazione si vedono subito. Noi abbiamo costruito più per vederle dopo. L'esempio di prima che dicevo era quello. Noi lo sviluppo su cui abbiamo lavorato lo vedremo tra qualche anno. Però vedere tanti ragazzi, e sono orgoglioso anche dei ragazzi che tengo in amministrazione, perché fanno la cosa con tanto amore per il proprio paese. Quindi quando la politica si fa su questo, può dare buoni risultati. Perché senza vedere i colori gialli, rossi, qui siamo tutti per il nostro paese. E' una scommessa che abbiamo vinto, perché noi quando ci presentavamo nel 2012, nessuno scommetteva sulla lista civica. All'Atronico non c'era mai stata una lista civica che potesse arrivare così. Invece siamo arrivati, e lo dico orgogliosamente, non abbiamo cambiato un assessore, non abbiamo cambiato un ruolo, soltanto un membro della maggioranza. Ma per fatti suoi, perché non sono andate bene i fatti suoi, ma non abbiamo fatto... Quindi la politica non è entrata nell'amministrazione comunale. La comistrazione comunale è lavorata la mattina alla sera per fare bene al paese, e penso molto alla cittadinanza, speriamo che questo abbia capito. L'aggiunta De Maria e il turismo, parlavo delle terme, com'è la situazione? Adesso a parte il progetto, i russi che verranno, che tutto su tutte quelle cose. No, abbiamo fatto... avevamo degli spazi, li abbiamo recuperati tutti. Abbiamo un rifugio in Mar Boschetto, oggi è stato... viene gestito da una società di Matera, che viene gestito bene, abbiamo un sacco di boy scout, e l'abbiamo recuperato anche bene, abbiamo rifatto la strada, quindi abbiamo messo un posto dove c'erano un po' di problemi. Abbiamo recuperato un museo, quindi il museo è gestito da un spazio culturale importante. Stiamo recuperando anche una struttura ricettiva, che era la Pineta, che adesso è di nuovo a bando, speriamo che adesso arriverà un nuovo privato. Quindi ci sono molte iniziative sul turismo, l'area camper, tanti B&B che sono nate all'Atronico. L'Atronico sono nati tanti B&B in questi tre anni. Abbiamo fatto il fatto della Casa Latronico, il progetto della Casa Latronico, in molte case in affitto, ma si tocca con mano che d'estate si lavora molto all'Atronico. Quindi anche questo fatto di fare tanti B&B, prendere questa iniziativa, significa che il prodotto sta andando bene, il marketing sta andando bene, e noi pensiamo, il nostro progetto, perché noi puntiamo alla politica di avere una visione, non può fermarsi la nostra visione di puntare, che questo l'avevo condiviso proprio con la signora che è voluta investire all'Atronico, di città del benessere, che è quella che non si ferma soltanto alle Terme. Quindi oggi perché non l'abbiamo chiamata l'Atronico Terme? L'abbiamo chiamata l'Atronico Terme perché ormai l'Atronico Terme doveva essere 20-30 anni fa. Oggi noi puntiamo all'Atronico del 2040-2050, il benessere, che si collega non soltanto il benessere della struttura termale, ma anche il benessere riguardo all'aria pulita. Noi abbiamo fatto misurare la qualità dell'aria, il mangiare bene, il stare bene, avere questi spazi verdi, il recupero di tanti spazi verdi, quindi il stare bene, quindi la ricerca un domani di chiunque, il turista cercherà dove può stare bene. Fausto, tu ci fai capire stasera che scalpiti per ricandidarti alle prossime comunali, perché lo rifai, se lo rifai? C'è un motivo, oltre l'amore per la politica e per l'Atronico. Lo farò ufficialmente nei prossimi giorni, ma più che altro non è ripresentare Fausto De Maria, perché d'altra parte si parla di PD, lì si parla di PAD, Partito Andi De Maria. Quindi non è la persona che si candida. Si candida un progetto che in questi cinque anni può essere migliorato, dico perché tutti abbiamo i nostri difetti, abbiamo i nostri... Ma non cancellato. Ci tengo questi termini per far capire che bisogna andare avanti su questo. C'è chi vuole far tornare l'Atronico al 2012 e c'è chi dice che in questi cinque anni è cambiato. E quindi io mi candido con una squadra, con un progetto, perché andare questi cinque anni... È chiaro che un sindaco al massimo può fare dieci anni, io sono contrario ai tre mandati, perché i primi cinque anni sono perché hai seminato tanto, gli altri cinque anni sono per raccogliere quello che... ma soprattutto per sistemare, per correggere anche le cose a visione, ma poi dopo dieci anni diventa... non hai più stimoli, quindi prima faresti un male a te stesso, anche alla cittadinanza non potrebbe mai avere stimoli. E tu hai detto lì c'è un... non c'è il PD, c'è il PAD. Senti, ma è una domanda così, alla mia maniera, sto bolognetti, sto bolognetti, che voda a te? Il buon Maurizio Radicale, che leggo su Facebook attacchi pesanti contro la tua persona pure. Io non sono abituato a parlare delle persone, non parlo mai delle persone, parlo delle cose. All'Atronico quando parlo di PAD, nel senso che non esiste un PD, perché PD, io anche sono del PD, è detto, è letto che sono del PD, sono stato uno dei primi sostenitori per Matteo Renzi, quindi... Lì è il PAD perché questo partito, una volta che ha perso l'occasione del 2012, invece di far tesoro dei propri errori, ha voluto dentro di sé, è stato ostaggio di alcune persone che volevano questa rivincita. E quindi è stato più che altro una sede dove tutti i scontenti dell'amministrazione di Maria hanno trovato rifugio. E quindi già questa alleanza che tu mi stai dicendo, qui mette in dubbio anche qualche tesserato del PD, non si ritrova. Quindi il mio appello era per questo. Molti persone che sono là che capiscono che lì non si tratta di confronto politico, ma è soltanto una rivincita, possono trovare spazio perché io sono aperto a qualsiasi tipo di confronto. Chi veramente vuole venire a misurare sul bene del paese è aperto. Lì sono legati ognuno da un sentimento diverso, però l'unica cosa che li lega è il fatto di essere contro questa amministrazione. E credo, l'ho detto già anche su Facebook, lì c'è una legge che dice, il mio nemico diventa mio amico. Quindi posizioni che cinque anni fa sembravano impossibili, oggi si ritrovano insieme per cercare di buttare giù l'amministrazione dei Maria. Fausto, tu sei renziano, sei amico di Matteo Renzi, è venuto all'atronico, insomma, detto tra noi, ma come vedi adesso Renzi? L'altro giorno era già pronto a candidarsi, stamattina sul Corriere della Sede ha detto potrei anche non essere io il prossimo leader che si candida a fare il Presidente del Consiglio. Insomma, questo Renzi, alla fine, voi renziani, capite che dice lui? Perché, insomma, quello che dice oggi domani smendisce. Io sono stato uno dei primi che, quindi sono legato uno da un certo rapporto di amicizia, non soltanto con Renzi, ma anche con chi stava lì dal primo momento. Lo comprendo, purtroppo la politica in Italia ha dei suoi limiti. Lui voleva cambiarli, io nel referendum ci ho creduto, ad esempio. Purtroppo è stato politicizzato, più che votarono nel merito, si è votato in base alla propria etichetta politica, e secondo me non era la migliore riforma costituzionale, poteva essere migliorata, ma oggi ci troviamo di fronte agli stessi problemi che ci trovavamo dieci anni fa, venti anni fa. La politica, purtroppo, Renzi c'è una frase che Renzi sempre dice, e che purtroppo non è che lui non ha fatto qualche errore, anche lui, certo, fa autocritica, molte volte ritorni indietro perché fa autocritica. Noi volevamo cambiare la politica in Italia, dobbiamo stare attenti perché la politica italiana sta cambiando le persone che la volevano cambiare. Questo è il grosso... Renzi si trova ad avere fatto il Presidente del Consiglio di un Parlamento che non era stato scelto da lui, perché lui aveva perso le elezioni, con Bersani si era messa da parte, tranne quei dieci parlamentari del suo cerchio che avevano trovato posto. Quindi sono gli altri che poi avevano cambiato idea. A questo punto, voglio dire, da parte di lui c'era stata la correttezza, l'aveva perso, si era messa da parte. Dall'altra parte, quando ha vinto, invece non c'è stata la stessa correttezza. Dall'altra parte c'è stata sempre una difficoltà che gli è stata creata da persone che sono abituati a dei meccanismi. Le cose stesse che vivo io all'Atronico, che vive il Presidente Pitella a potenza, e le stesse cose che vive Renzi nel Parlamento. Ci sono persone che non vogliono effettivamente cambiare, perché vivono grazie a questi sistemi. Stanno in piedi proprio grazie a questi sistemi, quindi cercare il compromesso a tutti i costi. Oggi la politica non può permettersi di trovare il compromesso sempre, perché viviamo delle velocità enormi di scelte che ha bisogno di scegliere subito. Quindi il mondo sta cambiando troppo velocemente. Questi compromessi portano problemi, non portano soluzioni. E quindi io credo che benvenga Renzi, che ci provi e ci riprovi di nuovo a cambiare, ripartendo dagli errori, è la stessa cosa per gli altri. Senti, Sindaco, diciamo che la campagna elettorale, tu lo sei sempre stata da cinque anni in qua, quindi il logorio della mente pure da mettere in conto, però si può vivere da qui a maggio-giugno quando si voterà in questo clima un poco, ancora è fresco l'episodio accaduto a Castellano e anche tu spesso sei preso di mila, anche sui social con parole poco intelligenti, aggiungo io, ma soprattutto abbastanza calunniose. Cioè, voglio lì, si può arrivare ad essere lucidi al giorno delle votazioni con questa paura che poi forse ti blocca anche nel fare qualcosa per il tuo paese. Beh, a me non mi preoccupo, perché sono cinque anni che vivo in questa situazione. L'ho detto prima e lo ripeto. Mi dispiace anche per l'ultimo accaduto che è successo all'assessore Castellano, io arrivai qualche minuto dopo, me lo raccontò lui e qualche testimone, però al di là del fatto che è brutto, ci può stare nei caratteri delle persone, io posso comprendere anche i cinque minuti, chiunque, anche se le mani in un confronto politico bisogna tenerlo sempre nelle tasche, però ci possono stare anche i cinque minuti, i dieci minuti, però poi c'è la mezz'ora, c'è l'ora, ce ne sono le due ore, ce ne sono le quattro ore, bisogna chiedere scusa, bisogna chiedere scusa per quello che si fa e sia dall'altra parte, quindi non so quando sia passato, anche i quindici giorni. Oggi, anche che basterebbe una scusa, c'è una scusa, ci vorrebbe una bella scusa e penso pure che l'assessore Castano, ma questo, per lo personal, potrebbe anche ritirare la denuncia, cioè dobbiamo recuperare il confronto civile in questo. A me dispiace più che altro le giustificazioni che si hanno avuto dopo, perché l'assessore Castano ha detto così, perché cercano di trovare le cause, invece bisogna, in prima cosa, isolare quello che è accaduto e poi bisogna far rientrare tutti nei propri, ma lo si fa non con le tifoserie, perché le tifoserie aumentano il bisogno a farlo con un bagno di multa. Purtroppo non ne vedo tanto multa, c'è molto orgoglio e presunzione di come se qualcuno dice no, deve andare così. E tu riesci a lavorare serenamente con questo clima che si è creato all'Atronico? Io ci lavoro tranquillamente perché lo faccio veramente, con la mia coscienza mi sento tranquillo, perché ho dato tutto per l'Atronico e faccio di tutto per l'Atronico. Quando parlo di l'Atronico parlo della sua complessività. Non mi ritengo che io abbia nemici, chi mi conosce sa che non porto raggori per nessuno. Non sono in competizione con nessuno, non dormo mai. Io penso di fare qualcosa per il mio paese. E quindi non mi sento in competizione con nessuno, non mi sento, a volte lo faccio per difendermi, oppure per chiarire ai cittadini le situazioni. Ma credo che da parte di tutti bisogna fare veramente una cosa, perché purtroppo diceva una citazione molto bella, diceva l'odio e l'orgoglio per il nemico fa morire l'amore per i figli. L'amore per i figli è proprio la propria collettività. Quindi pensare alla collettività, anche perché io mi faccio pure una battuta, se io domani mattino me ne andassi dall'Atronico, sarebbe finita tutta questa guerra. Cioè poi alla fine di che cosa parliamo? Parliamo di cose, parliamo... Cioè a me dispiace quando si falsificano le cose, quando si parla di altro. Ci sta pure in politica, però poi bisogna dire le cose. Invece c'è stata qualche regista che poi io credo che più che altro, che molti si sono fatti inghiottire da questo modo di fare, di cercare tutti i costi, la zizzania, la polemica, la falsità, qualcuno che è abituato con il fatto che la politica possa dare sempre uno spazio e un ritorno. Invece non è così. La politica oggi è diversa, chiede cose diverse, chiede un modo di fare di... Può essere anche sbagliato, non è che quello che fa l'amostrazione sia giusto, ma bisogna confrontarsi sui fatti, non sulla cosa se il tubo è rotto, se non è rotto, vuol dire, queste sono cose che non portano niente al paese, perché il paese poi noi ci staranno i nostri figli, quindi le occasioni che oggi perdiamo, le perdiamo per sempre. Siamo alle ultime battute di questa nostra chiacchierata. Allora, ti ricandidi nella lista civica, vinci di nuovo le elezioni, il giorno dopo, per la seconda volta Fausto De Maria è sindaco, la prima cosa che farai? Ritornata al comune. Tu già dici che vincerò, potrei anche perdere. Va bene, siamo ottimisti, dai. Questo non mi preoccupo, perché ho detto prima, siamo ottimisti. Io sono cosciente di andare davanti alla cittadinanza e dire quello che è. Poi la cittadinanza, come giusto, democraticamente, deciderà sul da farsi. Se io sarò di nuovo sindaco, riconfermato sindaco, a quel punto, la prima cosa che farò, fare tutte le cose che non sono riuscite, ma non sono riuscite a fare, perché abbiamo messo tante cose in cantiere, ma la prima cosa è la macchina amministrativa, perché le prime difficoltà le ho trovate lì. Noi abbiamo tracciato una buona strada, abbiamo fatto una bella strada. Adesso la macchina amministrativa, bisogna avere una buona macchina amministrativa, bisogna avere un Ferrari, che se si ha una 500, non veda nessuna parte. E quindi da prima cosa bisogna cambiare la pianta organica, bisogna pensare, riflettere sulla questione, perché io appena sono arrivato, perché vengo sempre accusato che io ero ex assessore. Va bene, sono stato ex assessore, ma la prima cosa che ho venuto ad affrontare è che qualcuno prima o poi doveva affrontare. Era la questione che c'erano dei problemi finanziari nel comune ladroni, non è che possiamo, io posso cospargere il capo di cedo, sono stato assessore, ma come sindaco ho avuto la responsabilità di risolvere quei problemi e quindi risolti quei problemi, oggi il comune ladronico veramente lascerei il comune diciamo con tante cose positive, poche cose negative e a quel punto la prima cosa che vede è la macchina amministrativa. Poi è chiaro che guarda avanti i progetti che sta la città del benessere, queste cose qua, è l'arreno urbano, perché noi dobbiamo essere pronti come cittadinanza ad essere all'altezza dell'investimento privato, quello che dico a tutti è che non possiamo avere un paese brutto se avremo degli bellissimi alberchi, quindi ci saranno anche le entrate, adesso pure abbiamo ricomunato molte entrate, quindi si potrà programmare, io penso che, spero che sarò io e la mia squadra e chi verrà a migliorarla con me, ma anche al contrario chi arriverà troverà veramente la facilità di poter pensare più che risolvi i problemi, adesso arriverà il momento di far quel passo di qualità che finalmente ci voleva. Bene, io ti ringrazio Fausto, speriamo di rivederci nelle occasioni poi vere e proprie della campagna elettorale, ti auguro buon lavoro e alla prossima occasione naturalmente. Grazie anche a voi amici di lucaniatv.it, un saluto affettuoso anche da Pino Carlo Magno, alla prossima occasione allora. Ciao!